Siamo qua per dare qualche aggiornamento sul rapimento del minore, il quale è stato trovato ieri sera, in serata, dalla polizia rumena in uno snodo ferroviario ai confini con l'Ungheria. La fuga di Bogdan Irstash con il piccolo David, suo figlio, che martedì scorso aveva strappato dalle braccia della madre in quartiere San Lazzaro a Padova, si è conclusa al confine tra Romania e Ungheria a Curtici. Al controllo documenti la polizia frontaliera ha riscontrato che c'era una segnalazione per la scomparsa del bambino. Sono scattati quindi gli accertamenti, il piccolo David è stato affidato all'autorità giudiziaria, mentre il padre non è stato arrestato ed è libero. Non è stato di fermo, sicuramente non è stato di fermo, quindi quello non lo possiamo dire. La sua posizione è ancora da valutare. L'uomo si era anche fotografato con il figlio poco prima di essere fermato e aveva postato tutto sui social network. La loro fuga era cominciata martedì scorso, quando il padre, insieme ad altri tre compici, ancora da identificare, aveva sottratto il bimbo alla madre. Da qui la fuga con un furgone nero, un Mercedes Vito, con una targa straniera che viene catturato da un occhio elettronico. Il mezzo, poi, era stato ritrovato nella periferia di Limena, abbandonato. La scorsa notte, l'ultimo eclatante sviluppo che ha portato al ritrovamento del bambino, in attesa che possa riabbracciare sua mamma.